Allora, io anni fa vidi un film, ero ragazzino, vidi un film con Richard Barton e Rex Harrison in due ruoli insoliti, perché erano due ruoli da omosessuali. Un film divertente, garbato, intelligente, eccetera, eccetera, che veniva da una piesta teatrale. Il teatrale era Quei Due di Deyer, combinazione, il Sottoscala, combinazione, tu un anno fa mi chiami e cosa mi proponi di fare? Di fare Quei Due, perché ce l'avevo visto anch'io quando ero ragazzino come te, forse tu hai un paio d'anni meno di me, ma comunque quando ero ragazzino e ho deciso poi nel tempo di portarlo in scena e così è stato. Vogliamo dire dove debutteremo intanto? Allora, intanto lo spettacolo alla regia di Roberto Valerio, che è più giovane di noi e quindi questo non guasta, siamo anzianini noi, ci divertiremo, debuttiamo al Teatro Imperiale di Guidonia il 15 di gennaio di 2016, giriamo tutti i più bei teatri italiani, tra cui l'Alfieri di Torino dal 2 al 7 febbraio, tra cui il Teatro Manzoni di Milano dal 31 marzo al 17 aprile. Mi fa piacere perché per la prima volta io volevo fare uno spettacolo divertente, garbato, dove Massimo mi facesse da spalla e finalmente io corono questo mio sogno. Come? Come la spalla, a me mi hanno detto che sei tu che fai la spalla a me. No, non ci siamo capiti, Massimo che posso fare, la spalla no, ginocchio va, ginocchio lo posso fare, perché il mio personaggio è caro. Vogliamo, 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 o ce ne andiamo, o salutiamo il pubblico e diciamo non se ne fa niente, oppure facciamo la spalla ognuno all'altro, tutte e due alla spalla. Noi saremo in scena fino alla fine di aprile, fino alla fine di aprile. Non di spalla, eh? No, no, no. In favore di voi. Mi raccomando, venite. Vi aspettiamo numerosi. Venite, venite, venite.